Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento un nostro appuntamento ormai diventato solito con gli accessori dedicati agli smartphone e ai tablet Android, in particolare ai Nexus. In questo caso stiamo a discutere di una cover per un Nexus 7, la nuovissima Z Slim di Puro, uscita da neanche una settimana praticamente, questa presenta una struttura abbastanza inedita per il nostro Nexus 7 che vi andiamo un attimo a far vedere. In pratica abbiamo una struttura a libretto con il classico elastico che si va a togliere che sarà poi posizionato in questa posizione dove troviamo questa trama. Nella parte anteriore ci basterà fare così per aprire la cover, cover che come potete vedere si piega in due e potete già immaginare come mai la plastica frontale abbia questo tipo di movimento. Andando a guardare un attimo i lati della cover del Nexus 7, potete vedere come ci siano i fori per il bilanciere volume per il tasto di accensione, sblocco e spegnimento, in alto pulito, anche se abbiamo qua un microfono per la soppressione del volume, qua uguale, mentre sotto abbiamo il jack da tre e mezzo e il connettore micro usb. Andiamo ancora ad aprirlo, ancora una volta, e vi faccio subito vedere che la parte posteriore, in plastica rigida, serve per andare ad incastrare questa parte. Infatti, incastrando questa parte si avrà il Nexus 7 in questa posizione. Posizione che ci consente soprattutto di visionare video, infatti è abbastanza scomodo invece per fare videochiamate. Naturalmente possiamo anche appoggiarci in questo modo, non so se riuscite a vedere. Per avere il cielo frontale, perché la fotocamera del Nexus 7 è posta in alto rispetto al display in posizione verticale. Materiali, materiali buoni, da tradizione puro, anche se c'è qualche imperfezione più che altro nella parte frontale. Come potete vedere abbiamo questa rifinitura un po' morbida che si tende a rovinare. Per quanto riguarda l'innesto, l'innesto è semplice, il disinnesto è un po' più complesso. Adesso non so se riesco a disinnestare il tablet. Ok, tolto. Questo sarà di nuovo libero tra le nostre mani. Parte interna abbiamo, vediamo meglio, i fori per l'altoparlante, mentre qua abbiamo questi due piccole spugnette che si legano al laccetto. Che dire, una cover abbastanza ben fatta, soprattutto comoda per il fatto che si può utilizzare il tablet in questo modo. E in quest'altro modo. Per il resto è un prezzo abbastanza competitivo, 29,90€. La consigliamo abbastanza. Naturalmente ci sono alternative sul mercato, ma questa è sicuramente una delle poche studiate appositamente per il nostro Nexus 7. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.